Oggi avremo l'occasione di sentire per la prima volta il ministro Giorgetti che come è tradizione qui nell'Eurogruppo al primo incontro farà alcune dichiarazioni programmatiche e io confido nel fatto che ci sia un atteggiamento di grande cautela come è necessario soprattutto per i paesi ad alto debito. Ovviamente cautela non significa non adottare delle misure possibilmente mirate sull'emergenza energetica. Noi abbiamo a tutti i paesi, in particolare i paesi con alto debito, segnalato che da un atteggiamento fiscale di grande prudenza possono esserci delle eccezioni per misure di sostegno legate all'emergenza energetica chiedendo che queste misure siano il più possibile mirate. Quindi ci aspettiamo una proposta di bilancio che riceveremo nel giro di un paio di settimane e di cui daremo una valutazione più tardi che non alle altre proposte di bilancio degli altri paesi. Quindi nel mese di dicembre ci aspettiamo una proposta che tenga conto di questi orientamenti e dagli incontri che ho avuto con il ministro Giorgetti e con la Presidente del Consiglio non dubito che questo sarebbe.